Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, buon mercoledì 8 aprile a tutti. Oggi iniziamo con un piccolo quiz, guardando l'immagine, molto semplice questo quiz, guardando l'immagine vedete un giocatore nato di nazionalità tedesca, attualmente all'Ipsia, cresciuto nello Stoccarda, titolare nella nazionale tedesca. Stiamo parlando di Timo Werner. Timo Werner che è un giocatore classe 1996, nato il 6 marzo, cioè 24 anni, nazionalità tedesca, nato a Stoccarda, punta centrale dell'Ipsia, giocatore con cui ha rinnovato la scorsa estate fino al 30 giugno 2023, un ragazzo che ha un valore di 80 milioni di euro. Perché stiamo parlando di Timo Werner? Timo Werner intanto, come già detto, è un attaccante classe 96, è un centroavanti talentuoso, è molto dotato sul piano fisico, ma anche dal punto di vista tecnico. Ha una grande realizzazione, è un buon realizzatore, ha un ottimo dribbling ed è un grandissimo colpitore di testa. Stiamo parlando di Timo Werner perché ieri dei colleghi autorevoli di Sport Mediaset mi hanno parlato e mi hanno riferito dell'interesse concreto da parte del Milan per Timo Werner. Nello specifico, Ralf Ragnik, suo direttore sportivo attualmente, ex suo allenatore nel 2016, avrebbe individuato in Timo Werner il possibile attaccante ideale con cui eventualmente creare l'attacco rosso nero insieme a Ibrahim, insieme a Leao e o eventualmente prendere addirittura il posto fin da subito di Zlatan Ibrahimovic. Perché parliamo di Timo Werner? Timo Werner intanto è stato scoperto da Ralf Ragnik. Ralf Ragnik che l'ha comprato nel 2016 quando aveva solo 20 anni all'Ipsia per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. è stato un affarone perché Timo Werner, la prima stagione guidata da Ralf Ragnik all'età di soli 20 anni, ha realizzato 21 gol in 32 partite, all'età di 20 anni. È un ragazzo molto forte, come vedete c'è una valutazione di circa 80 milioni di euro, quindi è una cifra che potrebbe fare pensare che il Milan non abbia la forza economica e soprattutto in questo momento anche senza coppe per acquistarlo. Però ci sono dei fattori che ci hanno spinto a dare come è possibile l'affare. Il primo fattore è il rapporto speciale, quasi da figlio a genitore, che ha con Ralf Ragnik. Intanto qua in questa immagine vedete tutte le statistiche e rendimento 2019-2020 di Timo Werner. È un ragazzo che ha totalizzato 36 partite, con 27 gol, 12 assist, e ha fatto, va in rete ogni 105 minuti, praticamente un gol a partita. Timo Werner, come dicevo, ha una valutazione di 80 milioni di euro, però ha un rapporto come se fosse padre e figlio con Ralf Ragnik. Voi chiederete come mai, perché? Intanto è stato la persona, l'allenatore, il talent scout che ha avuto fiducia in lui. Probabilmente Timo Werner è il giocatore che è, grazie anche agli insegnamenti di Ralf Ragnik. Ma soprattutto perché Timo Werner, fino alla scorsa estate, era in scadenza di contratto. C'erano state tantissime offerte su Timo Werner, da parte del Bayern Monaco, da parte del Borussia Dortmund e da tantissime big inglesi. Però Timo Werner, confrontandosi con Ralf Ragnik, ha preferito rinnovare la scorsa estate per 4 anni, fino al 2023. E in Lipsia, in questo caso, la dirigenza, la proprietà Red Bull, ha apprezzato molto il gesto di Ralf Ragnik, ha apprezzato molto il comportamento di Timo Werner. Per cui c'è stato un accordo, una bozza di accordo, secondo la quale, questo ce l'hanno riferito, potrebbe esserci un trattamento speciale nel caso Timo Werner chiedesse la cessione, a maggior ragione, se dovesse seguire il suo maestro Ralf Ragnik. Per cui è importante riportare questa indiscrezione, secondo la quale Timo Werner potrebbe lasciare l'Lipsia per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro, si parla di un sessantina di milioni di euro, visto e considerato il rapporto padre-figlio che ha con Ralf Ragnik. Ralf Ragnik, che ricordiamo è il direttore sportivo del gruppo Red Bull, gode di grandissima stima e grandissima fiducia da parte della proprietà. La proprietà è stata avvisata, ovviamente, in maniera cautelare, in maniera tempestiva, di questo possibile trasferimento di Ralf Ragnik al Milan, non impedirà con questa opportunità, questa importante opportunità tra il torte tedesco, quindi potrebbe aprirsi uno spiraglio. Ovviamente il Milan, se acquisterà Timo Werner, cederà anche qualche calciatore, come potrebbe essere Donnarumma, per fare cassa, potrebbe essere Paquetà, potrebbe essere Chessy, sono vari giocatori che potrebbero lasciare il Milan. E poi non dimentichiamoci tutti gli ingaggi che il Milan andrebbe a risparmiare, i 7 milioni lordi di Biglia, i 4 milioni e mezzo di Buonaventura, e quindi il Milan potrebbe creare un gruzzoletto, perché no, provare a prendere Timo Werner, l'attaccante del futuro. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.